Cos'è assurdo il bannato in Cina parte 8 Facebook è totalmente bannato in Cina perché sappiamo tutti che su Facebook ognuno può scrivere qualsiasi cacata agli passi per la testa e in Cina non funziona così perché se una cosa non va bene al governo cinese allora la disinte... la fanno sparire e beh Facebook è stato bannato proprio perché nel 2009 ci sono state delle rivolte e ovviamente ci sono stati dei post a riguardo su Facebook ebbene Facebook in Cina è da quel momento iscriviti per la parte 9